Bella ragazzi, questa volta vi presentiamo dei cannelli per saldatura ma utilizzabili per tantissime altre cose. Il più semplice diciamo è un cremer con la sua fiamma azzurrina. Poi abbiamo questo cannello GPL con un principio di fiamma centrale che viene mantenuta accesa da una corona di altre fiamme intorno, non so se si riescono a vedere i fori e poi abbiamo in sostituzione di questo sullo stesso manipolo abbiamo questo qua, questa la miscelazione la fa qua, la miscelazione gas-aria, questo la fa qua in fondo quindi avviene una miscelazione più perfezionata lungo questo condotto e abbiamo a un certo punto quattro fori leggermente inclinati sul fondo di questo piccolo diciamo astuccio di acciaio inossidabile e questi fori indirizzano la miscela gas-aria in rotazione. Posso già dire che questo è più potente di questo. Questo qua in effetti è un semi diciamo un semi diffusivo, parte dell'aria viene miscelata subito per le fiamme intorno e una parte del gas esce e viene miscelato diciamo con un eccesso d'aria qua dentro e fa una fiammina centrale. Adesso qua abbiamo preparato un termometro, questo qua in realtà è un PID, è uno strumento per controllare la temperatura, una specie di termostato ma molto più sofisticato e abbiamo collegato una termocopia platino-platinorodio, una termocopia tipo S, un filo è di platino, l'altro filo è una lega di platino col 10% di erodio, resiste fino a 1800 gradi. Vediamo cosa succede. Si arroventa la termocopia, arriviamo intorno ai 1485, 92, 98. Siamo sui 1500 gradi con questo. Allora invece adesso accendiamo questo. Questo sistema è un sistema fiamma protetta, non ho detto prima, è praticamente resistente ai colpi di vento se uno deve saldare dei tubi all'aperto nella giornata ventosa, però non ha una fiamma compatta e molto calda. Comunque, vediamola. Vediamo quanto raggiunge questa. 1460. Allora, vi faccio vedere una cosa. Ecco, ora lo becchiamo bene, bisogna essere precisi. Ecco, da vicino la fiamma è piuttosto fredda, come ci allontaniamo aumenta di temperatura, perché quando siamo vicini, siamo quasi a 1500, ecco quasi a 1500, quando siamo vicini, essendoci un getto di gas al centro, praticamente è una combustione diffusiva con eccesso d'aria, la combustione. La combustione avviene distante dalla testa del bruciatore, il completamento della combustione. Non so se si vede, c'è come un condotto scuro dentro, la fiamma è azzurina, qua diventa violacea. Si vede appena appena un condotto scuro. Quindi finisce circa qua, la combustione è qua. Adesso troviamo questo che è il migliore. È migliore perché ha una fiamma più compatta, una combustione più breve, perché essendo in rotazione si accorcia, si avvita su se stessa, si accorcia tutto il dardo di combustione e abbiamo una combustione un po' più concentrata. vediamo un attimo. Qua si vedono ancora le spirali della zona dove c'è quell'azzurino, anche un'altra fiamma che era un po' meno diffuso, meno visibile. Avviene una reazione chimica dove ci sono ancora dei radicali liberi, ad esempio del gas, che poi vanno in combustione. C'è anche del monossido di carbonio. Poi la fiamma, questa è l'accompletamento. Allora, vediamo un attimo. Iniziando a distante. Siamo sui 1.532, 1.33, 1.48. È già più alta questa distanza, la temperatura. Vediamo un po' questa. 1.580, 1.580, avviciniamo. Siamo quasi a 1.600 gradi, a differenza dei due precedenti. Ecco, c'è stato uno spike. Ecco, a 1.594 non riusciamo a superare. C'è un punto dove siamo quasi a 1.600. Quindi direi che questo è il migliore tra i bruciatori a GPL. Guardate un attimo nella descrizione del video metteremo dei link di vari tipi di cannello. Composso quello, semplicissimo, con una bomboletta camping gas e il manico e l'accensione piezo, molti hanno il rubinetto di apertura che è comodissimo. Mi si è rotto anni fa, non l'ho più comprato, ma devo ricomprarlo, perché è pratico. Serve da scaldare un pezzo, si prende, invece qua abbiamo tutto sto tubo, la bombola del gas sotto. Però bisogna dire che quei cannelli lì hanno un sistema semidiffusivo di fiamma tipo questo. Quindi, adesso facciamo un attimo una curiosità. Noi abbiamo metano e GPL a confronto. Allora, un normal metro cubo di metano ha bisogno di circa 10 metri cubi di aria per bruciare con fiamma neutra, diciamo, combustione stechiometrica. Mentre il GPL ha bisogno, un normal metro cubo di 4, sempre normal metro cubi di aria circa, per bruciare meno aria. E questo è un vantaggio, perché se avesse lo stesso potere calorifico avrebbe meno aria da scaldare per far avvenire la combustione e quindi risulterebbe già più caldo del metano come combustione, come fiamma. Però c'è anche da dire questo, che un normal metro cubo di metano fornisce circa 10,12 kilowattora senza circa, se il metano è puro fornisce questa potenza. Mentre il normal metro cubo di GPL ne fornisce 13-14 kilowattora. E questo dipende, 13-14 non è preciso dalla miscela, perché GPL vuol dire, non vuol dire gas, propano, liquido o roba simile, vuol dire gas di petrolio liquefatto. E sono miscele di propano, butano, una volta c'erano anche altri componenti che adesso hanno eliminato perché non erano tanto buoni. Si otteneva come sottoprodotto della raffinazione del petrolio per ottenere benzina, cherosene e gasolio, i combustibili principali. Poi possiamo dire ancora che se in questi cannelli qua noi bruciassimo del metano avremo una fiamma veramente misera, più lunga e misera, più lunga perché c'è tanta aria che deve intervenire per far bruciare completamente il metano. È molto più fredda di queste fiamme qua. Una cucina a gas a GPL scalda prima a far bollire l'acqua rispetto a una cucina a gas a metano, proprio per questo fatto. Allora, poi va bene, c'è qualche equivalenza. il normal metro cubo, diciamo una specifica che intende che un metro cubo di gas a pressione atmosferica 1000 millibar standard e 0 gradi di temperatura. Una volta c'era lo standard metro cubo che il gas era 15 gradi e 760 mm di mercurio ancora a quei tempi di pressione atmosferica che adesso corrisponderebbero a 10,113,25 millibar. Ah, diciamo ancora una cosa, che 860 kcal sono uguali a 1 kW. A questo punto devo aggiungere una cosa che mi ero dimenticato di dire e devo prendere un dato perché l'ho lasciato di là. Ecco, mi ero dimenticato di dire. A volte può capitare, non a tutti, di dover leggere, ad esempio, un valore in SMC e volerlo in normal metri cubi. Questa è l'equivalenza. Normal metri cubo corrisponde a 1,056 SMC, cioè standard metro cubo, di una volta. A questo punto, se vi è piaciuto il video, mettete mi piace, se volete iscrivervi al canale e dare un'occhiata alle playlist dove abbiamo diviso per argomenti tante cose. Questo video finirà su fiamme e combustioni queste cose qua, che è una playlist apposta. Abbiamo anche, per aiutarci a, diciamo, a comprare cose che servono per fare video particolari, abbiamo anche messo in vendita delle magliette con il nostro logo. Se guardate in descrizione del video troverete anche queste cose e troverete comunque link di tutto quello che noi utilizziamo per fare i video. Se uno vuole replicare un qualcosa, li trova nella descrizione del video. Bella ragazzi! Bella ragazzi!